I bisogneri si hanno detto a Mr. Chetano che manca il Giosuè poi è un colpo di telefono alla mamma per vedere se arriva se non arriva lo prendiamo un altro ragazzo bravo Oh, ma c'è che c'è un gioco? Grazie! 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 Bravo, Pablo! Bravo, Pablo! Come, come! Cosa! Bravo, Leo! Bravo! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.